Il SILP richiama l'attenzione delle istituzioni sull'ultimo dato relativo alla dispersione scolastica in provincia di Caltanissetta che va oltre il 41%. Sì, purtroppo come CGL nella sua interezza con la sua massima espressione anche dal segretario generale abbiamo fatto questa forte denuncia per evitare che questi dati si possano ripetere o riprodurre nel tempo. Tanto è vero che questo dato ci allarma tantissimo perché supera il dato statistico della provincia di Palermo. Storicamente ovviamente la provincia di Palermo, Napoli e Bari sono caratterizzate da questo fenomeno perché c'è tanto disagio minorile che spesso e volentieri poi sfocia nella devianza minorile. Tanto è vero che anche nella nostra denuncia abbiamo messo in evidenza che dentro il distretto di corte d'appello che mi permetto di precisare fa parte di due province N e Caltanissetta abbiamo due comuni Riesi e Gela che detengono il privato come devianza minorile. Pertanto il nostro auspicio qual è? Sensibilizzare le istituzioni e mi riferisco a quelle che hanno il compito primario di tutelare i minori. Il mondo della scuola innanzitutto al quale abbiamo anche avanzato la richiesta di convocare, di riunire l'osservatorio provinciale sia sulla dispersione scolastica ma anche sul bullismo. Perché oramai in molte scuole registriamo queste situazioni che preoccupano anche tante famiglie e tanti genitori perché ci sono ragazzini e studenti che vogliono studiare altri invece che disturbano chi vuole raggiungere un buon risultato. Questo è stato il nostro scopo, è stato anche il nostro intentimento e adesso speriamo di raccogliere il consenso ma soprattutto della cittadinanza oltre che dalle istituzioni. Avete intenzione di incontrare le istituzioni per discutere insieme? Sicuramente questo sarà frutto di un lavoro sinergico fra le varie categorie della CGL, della stessa segreteria provinciale della CGL. Innanzitutto penseremo di incontrare il provveditore, il prefetto, anche il procuratore che ancora il posto è vacante presso la procura minori e anche il presidente del tribunale per i minorenni. Non è un problema complesso che ha bisogno di risposte articolate ma almeno tamponarlo perché a noi ci sta a cuore salvarne uno, anche un piccolo bambino, una piccola bambina, già per noi sarebbe un risultato straordinario. Però quando c'è tanto disinteresse, c'è tanto silenzio, c'è tanta irresponsabilità, allora noi ci preoccupiamo ed ecco che invitiamo gli organi di informazione a darci una mano di aiuto.